Il Presidente della Lega Ambiente Ermete Rea Lancio, Piero Marratto, Sindaco di Roma Walter Bertroni, Gigi Proietti, per esempio la vedova di Paolo Fraiese, un straordinario giornalista, collega di Piero, collega mio, quant'è un anno signora? Un anno e mezzo. Voi eravate a Parigi? Sì, Paolo era corrispondente da Parigi. L'improvviso? All'improvviso. Io volevo ringraziare Veltroni perché da una parte questo aver dedicato una strada a Paolo è una manifestazione di affetto e di amicizia per me e per i miei figli che ci ha veramente rallegrato e ci ha scaldato il cuore. E dall'altra parte, come dicevate prima, è un modo per ricordare, nel caso di Paolo il professionista, è un riconoscimento per tutto quello che lui ha costruito nel mondo dell'informazione perché Paolo ha dato tanto alla RAI e ha dato il meglio di se stesso al suo lavoro, con coerenza, con coraggio, con costanza, a volte con rabbia, ma comunque con impegno, con l'impegno di chi ha creduto davvero, fino in fondo, nell'informazione come mezzo per migliorare la nostra società. Bene, grazie, sigla, buonanotte.